Il capogruppo di Forza Italia, Damiano Cardiello, interviene sulle dimissioni del responsabile del patrimonio, l'ingegnere Lucia Rossi. Cardiello spiega Apprendo con grande stupore e grande amarezza delle dimissioni dell'ingegnere Lucia Rossi da dirigente del settore patrimonio del comune di Eboli, una persona di comprovata professionalità che ha gettato la spugna a causa di mancanza di ascolto dei livelli politici e problemi interni. Aveva chiesto a gran voce una riorganizzazione delle risorse umane interne al settore, ma anche maggiore ascolto al fine di rendere il settore patrimonio ancora più funzionante senza avere alcun riscontro. Ma nessuno le ha dato ascolto ed accusa, vista l'assoluta indifferenza dell'amministrazione comunale alle richieste fatte e messe nero su bianco, alla Rossi non è rimasta che l'unica scelta dettata dalla dignità professionale di mettersi. Perché non è stata garantita l'imparzialità della dipendente comunale? Perché Cariello non ha dato seguito alle legittime richieste del dirigente? Redigerò una interrogazione.